Sono qui perché ieri scorrendo qualche sito ho letto delle dichiarazioni, delle affermazioni sull'autogol di Dinunzio e questa cosa qui ha infastidito me e soprattutto ha infastidito la squadra. Ci dispiace perché siamo un gruppo sano, con dei valori, con dei professionisti seri e comunque dispiace che qualcuno possa alludere dalle cose che non esistono perché questa squadra qui ha tantissimi difetti ma è un gruppo fatto di uomini, un gruppo solido che si impegna e fa tutto per il bene del Catanzaro. Quindi ripeto non permettiamo a nessuno di dire certe cose, di affermare certe cose e sono qui comunque a ribadire che il gruppo è bonito, è sano e forte e anche questa cosa qui sarà uno stimolo in più per dimostrare che siamo un gruppo sano con dei valori seri. Volevo solo fare chiarezza su questa cosa qui che non mi è piaciuta né a me né alla squadra e siamo infastiditi e anche un po' arrabbiati per queste cose che sono uscite e che secondo me non hanno senso e non stanno né in cielo né in terra. Tutto qui. Grazie.